Poco fa ho incontrato Roberto. Luca guida l'auto da tre anni. Sarò a Roma fra dieci giorni. Due giorni fa è venuto Paolo. Da quanto studi l'italiano? Fra un mese parto per la Spagna. I bambini dormono da poco. Fra due anni finirò la scuola. Da quanto tempo conosci Marco? L'ho comprata nuova un anno fa. L'estate inizia fra un mese. Non vedo Sara da due giorni. Ci sono già stato sei mesi fa. Un'ora fa stavo lavorando. Non vedo Sara. No vedo Sara. Non vedo Sara. Non vedo Sara. E poi. No vedo Sara. Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.